Dichiarazioni da fare, spero di tornare, abbiamo delle pile abbastanza poco potenti, quando saremo dentro chissà, vediamo. Quindi i mostri dell'Ura chissà che cosa succederà? Eh, una volta avevano visto qualche animale strano nell'Ura, non so se era un grosso topo o che cosa, però speriamo di non incontrarlo. O il paleardino, un'altra immersione. Alberto, dichiarazioni tu invece? No, una passeggiata tranquilla. Tranquilla? Ma che bello questi stivali così lunghi. No, guarda qua. Sì, tutti gli stivali che ha preso legambiente per le protezioni civili, ne hai regalati un po'. Davvero? Scusa, come si fa a... Aspetta che vedo qui dentro? Sì. Il mio scappone. Uno, più. Ok. E uno, due. Siete qui in macchina voi? No, più lì. Questi sacchetti. Prendiamo noi. Perfetto. Allora, adesso. Come si fa qui? Scusa, come sei pratico? No, si tirano su. Eh beh, non stanno su. Non vedo che funzionassero così. Oh, va che roba. Bene, bene. Allora, adesso. Noi com'è? Eh, questo. Ma che siamo quasi pronti, eh? Allora, questo farino qui. Tiriamoli via il... Intanto non serve. Il monitor lo tiriamo via. Lo tengo... Intasso. Andiamo, 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 andiamo. Ecco. Lascio qua. Bene. Allora, tu sei già pronto. Allora, questo affare è qui che lo mettiamo dentro. Come si farà? Farà? Oh? Eh. Ok. Andiamo, 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 andiamo. Ecco qui. La cosa importante è che sia su, no? Adesso mi giro, tu mi aiuti. Aspetta. Non mi hai vergogna. No, no, il problema è darti una mano adesso. No, diventeremo che non cade più di qui, eh. Perfetto, basta. Uno. I 75 anni si vedono. Va bene. Allora, c'è la mia merda. Allora, cosa dicevi? Ci sono i pesci, dove? Centinaia di pesci. Dove, dove? Li guardi qua? Qualcuno che scappa, ma pochi pochi. Saranno un centinaio al massimo. Perché gli altri, il grosso, è già scappato giù in base. Ora passiamo sotto il primo ponte. Questo è il ponte di via Roma, giusto? Sì, il ponte di via Roma. Ma che acqua pulita che c'è oggi, oè? L'hanno costituzionato il piccolatore di bulgaro. Ah, sì? Ah, bene, bene, bene. Finalmente, dopo tanto rompere le scatole, in questi anni qualcosa si fa. Perché non cammini nell'acqua, che è così bello? Ah, ho capito. Non vedo sempre l'accomissione che ha un colato più di doverlo. Guarda quelli lì grossi. Dove c'è uno? Eh, ne è passato lì uno. Ne è passato uno, non l'abbiamo visto, che ribio. Guarda qua c'è una pozza. Qua la pozza è piena. C'è una pozza più profonda. Ah, ecco lì, ecco lì. Sì, sì, vabbè, stiamo riprendendo, perché così. Sì, vabbè, comunque l'abbiamo già preso. I pesci ce ne sono tantissimi, eh. Vorrei fare una cosa turistica, pulire bene il fiume, fare la passeggiata nel fiume, eh. No, ascolta, se fosse bello pulito, quando c'è così poca acqua, accompagnare i bambini con gli stivali qui dentro, chissà quante persone verrebbero, eh. Quello è il ponte sul... Il ponte della Villa Gianetti. Ah, quello è il ponte della Villa Gianetti. Che non si vede perché è chiuso. Questo è il ponte che collegava Casa Tanzi, Casa Tanzi, che è questo, con l'altra parte della città. Questo è il ponte scorso. Guarda che, essendo qui dentro, sembra di essere in un altro mondo, eh. Mentre cammino, i pesci scappano. Andali. Qua c'è proprio un fosso. Un fosso? Allora giriamo a largo. Ecco, qui stiamo attraversando un punto di secca quasi, eh. C'è pochissima acqua in questo punto qui. Tutti i sassi, i ciotoli, mangiati dalle acque. Era probabilmente, cosa ti è stato detto, dove tutti buttavano le scariche delle fognali una volta, per non farli andare in trono e due. Hai capito. E avanti così, evidentemente andava avanti di là, poi dopo quel tempo è stata sommersa dai detriti e non c'è più. Capito. Ma perché la faceva una zigzaghe, così, avanti e indietro? Probabilmente che qua c'era qualche cosa che non ci serviva. Mi è profonda perché c'è il salto del racco della parte forbina che vedo e tende a scavare via. Oh, coccane, la allora sarà difficile passare di là. Poi provare otto bambini, ma se invece ci fuori andando dal ponte. Qui c'è un po' di odore, eh. Ma tutto l'odore non è dall'acqua. L'acqua che è qua, è un po' marcita. Giudice, è acqua di fogna o aria? No, 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 è un po' l'acqua di qua. E qua che è tutto, vedi? Se tocca l'acqua è rimasta qua anche nella marcia. Come l'acqua stagnante, perché non ce ne trovo che... E fammi vedere finché vado. Adesso lì asciutto vengo, quando ho passato quel picco vengo su. Comunque uno che non sa dove siamo, vedendo il filmato, diciamo che bei posti, luogo selvaggio in centro a Saronno. Ma di là ci sono dei posti ancora più belli, questo forse è il più brutto dal punto di vista naturalista. Ah, le piante edifichi, a tutto spiano, quando sono maturi conviene mettere sull'istivale e venirli a prendere. Pagliardi, ma chi sono quei due là che sono sull'all? Ah, non so, due che vogliono suicidarsi. L'acqua qui si è ridotta al minimo, fa la sua discesa veloce e sotto lì c'è una buca perché viene scavata dall'acqua abbastanza costantemente veloce. Allora, qui siamo all'interno. Questi erano tutti i scarichi abusivi, ma sono belli secchi, sei troppo vicino con la luce. No, no, fa niente, perché si vede proprio. Questo qua fa il raggio così, fa niente, dai. Guarda il mio dove va, vai. No, andiamo avanti e poi torniamo. A dieci minuti siamo indietro. L'hanno un altro scarico. Chiedono vecchi, ma tutti chiusi. Sì, perfetto. Anche questo, tutti chiusi. Illumina in fondo, vedete qua si vede. Ecco, perché con la lampada sono in fondo, qui non prendo quasi niente con questa. Con quell'altra illuminata, no, si riprende, ma si riprende. Beh, qui c'è poco da guardare. Dove dobbiamo andare? Ah, guarda le salatiti sopra. Aspetta. Lì, ah no, sono ragnatele. Oh, i coccane, sono ragnatele. Vabbè. Quanto è sotto la strada, no? Sotto quale strada? Quella lì vicino che va in piazza dell'ospedale. Esatto. Quella... Beh, qui si cammina... Ah, io pensavo che fosse tutto... Questo setto. L'uomo non può da parte di qui, da te per far vedere. Sì, infatti io riprendo, vedi. Qui non c'è niente, guarda. C'è quel cazzo scarico da controllo. Avanti, avanti, avanti. Ah. Come vedi, completamente uno scatolare di cemento. Sì, sì. Sopra sono più di... Non ha neanche senso scoperchiarlo per ridare un senso naturale, perché non avrebbe senso. No, no, no. Sarebbero solo soldi buttati in. No, ma potrebbero mettere a posto quella parte di là, che bella. Sì, sì. Comunque hai visto che quando siamo entrati è uscito un uccello o no? Sì, è un merlo. Un merlo qui dentro, a buio. Andiamo a fare un po' per fare il mio video. Peccato che non avevo visto nessuna gazzina d'acqua, perché ovviamente ci sono anche le galline. Sì, sì, lo so. C'è la stadione giusta che vengono tutti lì. Adesso fanno i piccolini, ho visto quella, no? Poi sono tutti lì con i piccolini. Ma due o tre settimane fa ho visto un'anatra con tutta la nidia di anatroccolo. Con? Tutti i pilli di anatroccoli in giro. Già adesso? Sì, sì. Ora questo è in ritardo, quest'anatroccolo. Questa sta magari facendo la seconda colare. Questo è il rumore. Le macchine che passano sotto. Siamo già arrivati vicino alla piazza dell'ospedale? Penso che inizi a essere la piazza dell'ospedale. Poi si riconosce quando passi sotto l'ospedale perché cambia il tipo di volta. Cioè, com'è? Invece di essere così una volta diventa una volta a volta. A volta, a volta. E non più uno scatolare quadrato. Allora, in pratica hai controllato tutto e tutto a posto, diciamo. Io, la prima volta è un anno e mezzo o due fa, diciamo la verità. Però, visto che adesso cambia l'amministrazione, non sarà più presidente della commissione giurisola. Ma chi lo sa, chi lo sa. Non sa mai. Sempre che la rifaranno, non la rifaranno. Scusa, qui in mezzo c'è un del... Ah, qui è troppo stretto. Ecco. Ah, ma è di qui largissimo. Sì, no. Dove vuoi? Poi, intanto la cosa si allarga, ma... Cioè, lo scatolare ci ha messo in un'altra parte sta scegliando il cemento, vedi? Sì, sì. Sto guardando. Anche il curvone adesso qui c'è. In parte di Piazza Voet. Qui c'è una scaletta per uscire, per spezzonare, per scendere forse, o no? Comunque si vedono tutti... Questo è dell'ospedale, questo. No, no, no. Tutti i tubi secchi. Però è secco, proprio non viene più usato, diciamo, proprio. Eh, sì, sì, sì. E questa è una scaletta che va su... Pozza di spezione. Vediamo cosa c'è. Oh là, Peppa. C'è una bottola di ferro sopra. Sì, e guarda, che sento pom pom. È sulla strada, questa. Ecco, adesso iniziamo la parte proprio sotto l'ospedale. Ma ci aspettano gli altri, là? No, no. Non ci aspettano? Dobbiamo tornare indietro, ci aspettano inizio. Eh? Ci aspettano quando torniamo. I bravi si annoiono anche, eh? No, guarda, non si aspetta. Se vogliono. Beh, qui è bello da vedere, questo qua. Ecco, questa è la parte qui dove più o meno c'è la garrita dell'ospedale. Ah, la garrita dell'ospedale. E come vedi, il tetto cambia. Vedo. Questo è, ovviamente successivo, questo me lo ricordo anche io, questo qua in cemento armato, ma mi illumina più largamente perché non si vede più niente. Per terra. Ecco, vedi che si vede. Questo è fatto a volta, cioè proprio con la tecnica di mattoni. Sai come l'hanno fatto? Sì, beh, in montagna so come fanno, qui non so. Comunque sì. In questa è la parte, iniziamo ad essere sotto l'ospedale. Come vedi qua c'è un altro un altro scarico, che però... E' sempre come commissione che ho fatto chiuso. Guarda un topaccio lì. E beh, qualcosa, è una fogna la fricina. E' un'attività, perché quello che è migliorato... Ma i toppi, guarda che è un toppone grosso, però mi illumina ancora se si vede. No, è tutto via. Questa qua dove va? Eh, dove erano prime i vecchi scarichi foniali che ci sono stati toppati. Questo qua l'ho fatto chiudere come l'amministrazione. Ah, ho capito. E qua si inizia. Beh, qui adesso andiamo indietro. No. Eh? Con tutti i secchi. Una volta questa qua era tutta Fogna che finiva nell'ora. Dall'ospedale? Da tutte le scuole foniarie, da tutti gli ospedali, dall'ospedale. Cioè, adesso sono tutti sistemi. E' leggermente umido, ma... No, ma per calcolare azioni. Questa è la? La spiaggetta. La spiaggetta. Di cosa è fatta questa spiaggetta? Di rifiuti, vedo un po'. Ma non sarebbe tanto ripulito questa la partita. C'è sempre un discorso di costi verifici, no? Eh, lo so, lo so. Di un meno un po' di ritto davanti, così vediamo. Non va neanche più a fuoco. Ecco, così va a fuoco. Si vede un polviscolo strano. Cosa sono? Una serie di moscerini, insettini che ci fai... che... che... insetti. Insetti che vivono al buio? Non pungono. Non pungono. Non so, magari sono le zanzare che erano un po' di notte. Ah, bella questa. Ecco lo spericolato che è andato avanti per vedere. Dopo ci spiegherà che cosa. ecco adesso ancora là sta guardando ma doveva verificare qualcosa di importante e invece sta andando avanti, eh. Sta andando avanti e fra poco non lo vediamo più. Beh, è andato. ecco che vediamo una luce in tempo reale facciamo vedere il rientro dagli inferi del Paleardi. Ecco che arriva con la sua luce. Scompare, arriva, si arriva, 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 è ancora dietro la curva però, viene avanti lentamente, è un percorso un po' un po' accidentato questo, guarda che luce che fa quella pila. c'è la sabbia auricola dell'indulore. Vero, eh? Ma dai. Dirla leggermente, ecco, leggermente perché se no non si vede, non ti si vede neanche adesso, fa niente, vedi. Oh, adesso fermati un istante, illumini un po' perché non ti vedo. allora, cosa hai trovato in questo ultimo pezzo di sottopasso? Ho trovato lo scarico dei condizionatori dell'ospedale che scaricano un'alco pulitissima all'interno dell'Ura. Benissimo. Tutti gli scarici foniali che c'erano una volta, che sono stati fatti sistemare, sono ancora oggi a posto come prima. Benissimo, ora passi avanti che torniamo indietro. non distingue se sono i pesci oppure quel però si... quando tu metti la luce non si vede. Bene, stiamo uscendo allora adesso dalla galleria e adesso devo avvisare gli amici che saranno su questo ponte che c'è un piccolo inconveniente ma vediamo un po' se sono sopra questo ponte. C'è qualcuno? eh ma io siamo a bisogno di aiuto si è fatto a bisogno di aiuto si fa le arvi eh dove è arrivato dove è arrivato vabbè non scendete per aiutarlo scendete ad aiutarlo no non si è perso è qui a 100 metri da qui fa male la gamba cosa? vabbè vabbè nessuno vuoi aiutare i paliari fa vedere come cammini vieni avanti fai vedere come cammini hai bisogno eh stai attento stai attento stai attento come non ci credi guarda un po' è partito il ginocchio è partito vabbè dai per questa volta te li è andata bene li è andata bene dai miracolo miracolo è passato e adesso ecco che finalmente sono tornati sani e salvi ma è stata dura è stata dura abbiamo trovato una grazia feroce per qualcosa quindi le famose leggende l'anato dell'Ura abbiamo trovato Piero le famose leggende del coccodrillo dell'Ura sono vere ma sai è un coccodrillo non tanto grosso ma fa abbastanza paura è andata dentro nella fogliettura che non usa più l'ospedale è andata da quale pare ah vabbè aspetta riprendi pure che io non ho vergogna che lo so no no te mi hai detto di riprenderti tutto ti riprendo tutto poi magari io poi tagli tu come vuoi no di qua di qua faccio vedere che sono velocissimo a scendere adesso scendo le braccia ce ne ho ancora olè